Filosofi, comunicatori, storici, linguisti e letterati. Suonare qui! Il Dipartimento di Studi Umanistici è un polo internazionale di cultura e ricerca, con 5 facoltà che spaziano da curricula di studi più classici a quelli più moderni e professionalizzanti, sia triennali che specialistici. Vediamoli tutti! Il Corso di Filosofia offre quattro possibili arei di studio, storia della filosofia, filosofia teoretica e morale, scienze storiche e scienze umane, in particolare psicologia, pedagogia e sociologia. Il Corso di Lettere si divide in classiche, moderne e contemporanee, con cui potranno formarsi futuri letterati, assistenti d'archivio, tecnici di biblioteche e organizzatori di eventi culturali. E ancora, scienze della comunicazione, lingue, culture e letterature straniere, scienze tecnica della mediazione linguistica, con una larga scelta di lingue europee e non, come russo, cinese, turco, ebraico, arabo, giapponese e albanese. Il Dipartimento si occupa anche del sistema bibliotecario dell'Università, che comprende due biblioteche di interfacoltà, otto dipartimentali aggregate, 19 sezioni bibliotecarie e l'accesso a risorse elettroniche, come i journals, i books, database, risorse multimediali, mappe digitali e statistiche. Bello, no? E ricorda, a qualunque curriculum di studi sceglierai qui, aggiungi la vita a due passi da posti così. Università del Salento, più curriculum, tanta vita. Università del Salento, più curriculum, tanta vita.